Ciao a tutti amici, oggi nuova gita sulla neve e con noi ci sono anche degli amici Teo e la Isa E andiamo? Andiamo? Teo dov'è che andiamo? Al Forte? Forte Mero o Forte Zaccarana? Forte Mero o Forte Zaccarana? Poi guai, c'è vento, fa freddino, il vento è bello freddo ma non ci facciamo scoraggiare da queste basse temperature E avanti a camminare! Ciao a tutti! Ciao a tutti! E' un metro ma compressa quindi è già sciolta Sciolta e compresse, esatto Quanti centimetri saranno? Sarà un metro e mezzo? Grazie a tutti! 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 Mi tuffo di testa! Ti voglio bene Lucia! Lascio tutti i miei veri beneficenza! No dai! No dai! Qualcosa! Lascialo anche a noi! Vabbè è stato bello! Però fatela divertente! Ciao a tutti! 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 Vedi, neanche uso le parole, cioè è talmente rilassato così che non vuole nemmeno parlare. Io ho fame. Anche io ho fame, adesso mangiamo. Ragazzi buon appetito. Ciao, buon appetito ragazzi, buon appetito ragazzi. Se non l'avete capito, buon appetito. Bene gente, abbiamo mangiato, ci siamo riposati, abbiamo preso un po' di vitamina D perché la vitamina D fa benissimo. E niente, è stata una gita molto carina, tranquilla, ma super bella. E niente, ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Ciao!